Serratura per porta blindata. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Ogni porta blindata deve avere una serratura. Chiaramente la serratura deve essere blindata in linea con la certificazione della porta. Soprattutto il cilindro quindi quell'elemento dove vado a infilare la chiave deve avere determinate caratteristiche in linea con la classe integrazione. Un cilindro classe 3 avrà dei requisiti, delle caratteristiche e un classe 4 avrà dei requisiti un pochettino più sicuri. Però a livello di serratura ti voglio fare un ragionamento. Esistono diverse versioni. Sono serrature normali, serature doppie quindi di servizio dove puoi dare la chiave magari alla donna delle pulizie e magari con quella chiave la donna delle pulizie puoi entrare a fare pulizie ma non puoi entrare nella porta quando l'hai inchiavata con la seconda serratura. Oppure esistono delle serrature molto più evolute motorizzate delle serrature che puoi aprire o col telefono in modo sicuro se la porta è fatta bene se utilizza dei protocolli ad esempio protocollo bluetooth che è un protocollo militare quindi il protocollo che mi dà sicurezza. Oppure la potresti aprire con l'impronta biometrica e la potresti aprire con delle card con un kit nfc o la potresti aprire semplicemente con un codice. Questo è molto comodo perché nelle porte più evolute mi consente di assegnare un codice diverso per ogni utente e di vedere nel mio telefono il registro degli eventi e quelli successi quindi potrei vedere la donna delle pulizie mi dice ha fatto quattro ore ma se è entrata alle 8 è andata via alle 11 magari quattro ore non l'ha fatta. Oppure potrei controllare il mio figlio che mi ha detto ah babbo ieri sera che non sono venuto a casa a mezzanotte ero a casa però qua c'è scrittore 4. No a parte gli scherzi però è molto comodo perché io posso dare l'accesso alla mia casa a più persone e decidere in ogni momento di toglierlo. Quindi se io non mi trovo più bene con quella donna delle pulizie con quello con il giardiniere eccetera eccetera non c'è bisogno che gli dica scusa Mario o Maria mi dai indietro la chiave perché per mille motivi. No, tu metti l'applicazione cancelli quel codice e gli vai praticamente a revocare l'ingresso quindi lui tornerà proverà a entrare non potrà più entrare quindi questo secondo me dà un'estrema sicurezza. E un'altra cosa molto importante che ti può dare questa serratura a parità di classe di interfrazione e questa è una sicurezza diversa da quella che viene testata è che praticamente tutte le volte che chiudo la porta lei automaticamente manderà tutte le mandate quindi se ora porta in classe 4 e le mandate non vengono date non viene dato il giro di chiave la classe è zero cioè si entra con niente basta una schedina anche se c'è l'antischeda perché l'antischeda se uno lo sa fare riesce a passarlo tranquillamente. Invece queste serrature robotizzate mi danno sicurezza sempre magari quando esco che dico ma tanto sto via solo 10 minuti non sto a chiudere la chiave e vengono in quel momento o la sera vado a letto e dico ho chiuso la porta chiave non mi ricordo spesso succede poi la mattina vai a vedere ma è aperta con queste serrature sarà sempre chiusa chiave quindi classe interfrazione garantita sempre e massima libertà si si perde a che meno tempo praticamente a togliere le chiavi della tasca a chiudere ad aprire si guadagno anche minuti preziosi che ad oggi che il tempo non basta mai non non è insomma non è male ecco se vuoi sapere altri consigli sulle porte blindate o sugli infissi o su scegliere la soluzione migliore ho creato un servizio di consulenza con sistema misacchi che puoi utilizzare e in tutti quei casi dove magari non ti posso servire direttamente come cliente per ragione di tempo per ragione di distanza e quindi richiedendo una tua consulenza personalizzata ti darò un consiglio sopra le parti disinteressato completamente e su spende più vai su www.blogbisacchi.it e richiede la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video